Bene a tutti ragazzi, sono davvero dovuti in questo nuovo video Oggi, velocissimamente, in 2-3 minuti di video rapidissimi Vi spiegherò come vincere FIFA 16 per tutte le console che volete Quindi, se avete PS4, se avete PS3, se avete Xbox, se avete Xbox 360, se avete PC Non c'è nessun problema Abbiamo FIFA 16 per tutte le console Più un altro gioco a vostra scelta Che può essere Fallout, che può essere Call of Duty, può essere Need for Speed Quello che volete, il regalo per voi Naturalmente per Natale, visto che siete sempre più buoni, io lo sono E soprattutto con voi che siete i miei iscritti Come si fa a partecipare ragazzi? 4 semplici passi per far sì che voi possiate partecipare a questo giveaway Innanzitutto dovete correre qui, sulla mia pagina Facebook A mettere mi piace al post che trovate in alto È il primo che trovate perché l'ho messo in primo piano Che è quello della partecipazione appunto al contest Dovete mettere mi piace al post Commentare con partecipo Seguirmi su Instagram Che trovate sempre qua Che è questo qua Il mio nickname E come quarta cosa Nel commento della vostra partecipazione Quindi dove scrivete partecipo Dovete taggare il maggior numero di amici Questo perché Io farò una vasca, una bacinella In cui inserirò tutti i vostri nomi Dei partecipanti Al giveaway, al contest Chiamatelo un po' come volete E nel momento in cui voi taggate per esempio 5 amici Io mi chiamo Luca Partecipo al contest E taggo 5 amici Avrete ben 5 biglietti Con il vostro nome Quindi più taggate i vostri amici Più avete possibilità di essere istratti E quindi di vincere Quindi per ogni amico che taggate Avrete un biglietto in più con il vostro nome Semplicissimo ragazzi Questi sono dei passi proprio basilari Che sapete fare tutti Naturalmente trovate anche in descrizione i link Per andare più veloci alla mia pagina Facebook E che dire ragazzi Questo è il contest Penso uno dei migliori che potete trovare Proprio in sezione games Spero che vi sia piaciuta comunque l'idea Anche come ringraziamento Visto che siamo quasi a un traguardo importantissimo E penso che anche fare un regalo a voi Sia una cosa molto importante E che vi tenga comunque stretti Al canale Tanti saluti Tanti mi piace Ci diamo come detto nel prossimo video Vi saluto Bella raga Grazie a tutti